Benvenuti all'Ottica DR! Dal 2002 ci prendiamo cura dei vostri occhi attraverso servizi come controllo della capacità visiva con tecnologia all'avanguardia, centraggio computerizzato per lenti progressive e montaggio degli occhiali in sede. Vieni in negozio a scoprire la vasta scelta di occhiali e lenti a contatto. Non perderti la Promo Junior! Una lente su due in omaggio per i bambini. Ottica DR. Il tuo punto di vista esclusivo. Ottica DR. Il tuo punto di vista esclusivo.